allora io adesso condividerò lo schermo eccolo qua lo vedete tutti allora qui siamo nel sito della scuola di sintesi evolutiva e vi presento allora vi dico subito ci saranno ecco questo è il primo corso allora io otterrò tre corsi che saranno in live questo di conoscenza iniziatica questo della magia della guarigione combinato l'ho chiamato così e poi il corso di meditazione creativa che sarà da marzo cioè sì da marzo in avanti allora vi parlo subito del corso di conoscenza iniziatica sperando che qualche d'uno delle nuove persone insomma ci sia allora diversi di voi già hanno una base della conoscenza iniziatica dei sette raggi e via dicendo però credo che affrontarla secondo il testo che ho scritto qualche anno fa e che ho aggiornato proprio da poco il mese scorso gli argomenti trattati li vedete qua e poi ci sono come vedete non lo vedete tutti lo schermo della scuola di sintesi si fatemi così ok e allora vedete il calendario e anche gli argomenti gli argomenti trattati il viaggio dell'umanità la scuola dei misteri i sette raggi la materia è importante perché sulla materia credo che in genere si sappia poco le leggi la gerarchia spirituale l'essere umano ho aggiunto un capitolo c'era già ma l'ho ampliato sui deva e la coscienza perché specie le persone nuove nel gruppo poco sanno di come sono fatti in realtà di come è fatto un essere umano e poi c'è i chakra eterici la funzione del cuore il servizio il karma la morte infine la reincarnazione quindi si passano diciamo tutti i temi di base di quello che è la scienza del sottile credo che un ripasso anche per coloro che conoscono non sia male però ognuno poi farà la propria scelta ci dovrebbero essere lo sto guardando l'elenco anno però ce ne sono altre sotto ha saluto anche romana ok alessandra non è in video è vera vera foroni salve vera io non non ti colò magari t'ho visto mi sembra di ricordarmi anni fa però puoi aprire il microfono vera ci puoi dire qualche cosa di te ciao vera sì ci siamo incontrati diverse volte io ho frequentato soprattutto potuto del fuoco con sergio barro in questi ultimi anni ci siamo incrociati diverse volte o ho seguito parecchie cose vostre ok però non ha mai seguito ricorsi perché appunto è la prima però hai seguito sul sito su fraterniti eccetera va bene ti ringrazio caro allora grazie passo al secondo corso che terremo sempre live e che sarà inframmezzato all'inizio a quello riconoscenza iniziatica perché quello riconoscenza iniziatica lo faremo ogni 15 giorni poi finito il corso che è più breve lo vedete qua è in sette webinar della magia della guarigione combinato l'ho chiamato così perché è un ripasso per tutti voi che già avete no da qualche anno fatto la magia cerimoniale e poi il corso l'anno scorso della magia della guarigione e quindi secondo me c'è bisogno di ripassare proprio le procedure e quindi in questi sette webinar qui vedete appunto del calendario com'è 30 settembre poi 14 28 ottobre 11 25 novembre 9 23 dicembre quindi questo corso diciamo così di ripasso per quelli che vedo qua ma nuovo per chi non ha fatto i precedenti vorrà essere per voi un riassunto ma per le persone che non hanno affrontato il corso della magia cerimoniale fissare i punti base e le procedure base di questo percorso che alla fin fine potremmo dire che c'è un percorso sia di guarigione ma anche come dire di costruzione dell'antakarana e di applicazione della costruzione di come vengono costruite le forme pensiero ora sapete che ecco adesso vedo che c'è maria maria ok ora la costruzione di forme pensiero è la cosa più importante che ci porta dall'era dei pesci all'era di acquarius e avere una procedura pratica è importante credo e bisogna allenarsi a far sì che possa diventare una procedura fluida ecco va bene avete c'è qualche domanda per il momento no tutto chiaro la salutiamo ciao maria allora una volta che siete registrati al corso e sono io che vi registro il corso una volta che lo avete acquistato in ogni corso vedete in fondo c'è per acquistare il corso vai alla vetrina cliccando ad esempio su magia della guarigione vediamo un po' cliccando sulla vetrina ecco qua si arriva la presentazione del corso su fraterniti.it e c'è la possibilità poi scorrendo di aggiungerlo al carrello e quindi poi di fare la procedura di acquisto c'è il costo e tutto quanto allora andiamo quindi per maria che è nuova sei già entrata maria sulla scuola di sintesi evolutiva il sito si si apre il microfono mi puoi mi puoi sento la tua voce eccomi 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 ci sei già entrata ok allora hai visto allora tu però non essendo ancora iscritta allora non riesci a vedere cliccando sul titolo ad esempio di magia della guarigione si arriva dove ci sono quello che vi voglio far vedere oltre alla spiegazione più dettagliata si vedono le cartelle l'accesso ok questo è importante perché ad esempio questa BI è l'accesso poi all'aula dove noi terremo il corso perché non lo teniamo su zoom ma su una piattaforma che è Big Blue Button che è una piattaforma di learning preposta e quindi questo è il con un link che rimarrà sempre quello e quindi voi potete entrare una volta che siete registrati al corso sia cliccando sul link oppure entrando nel corso e cliccando appunto su questa cartella aula corso magia della guarigione oppure aula corso conoscenze iniziative e così via in tutti i corsi c'è anche la cartella dei sussidi didattici la cartella in questo caso dei capi d'opera e elevazione e quindi altre cartelle non ultima la cartella dei documenti condivisi che è la cartella entro la quale voi potete mettere quando vi verranno dati dei compiti potrete postare i pdf che poi andremo a condividere durante la lezione del corso quindi i corsi sono strutturati e poi vedete che ci sono i vari appuntamenti, i vari incontri e potrete vedere ad esempio in questo il 14 ottobre ho già messo dei contributi e quindi di volta in volta andando a vedere nella webinar corrispondente a quello che dovremo affrontare potete vedere se ci sono dei compiti o se ci sono diciamo dei sussidi didattici oltre a quelli già nella cartella dei sussidi didattici perché i miei corsi in genere quelli che li hanno frequentati lo sanno non sono dei corsi in cui si ascolta e basta ma anzi si ha un'interazione frequente tra il facilitatore e le persone che stanno imparando allora ritorniamo per vedere l'ultimo dei corsi live che è il corso di meditazione creativa anche qui vedete il calendario dal 3 marzo e finirà il 16 giugno e anche qui sono 14 webinar spendo due parole sulla meditazione creativa questo è, ho scritto un libro di cui faremo riferimento proprio per il corso perché l'ho scritto quattro anni fa perché a un certo punto mi sono reso conto che l'occidentale ha bisogno di una tipologia di meditazione ma non solo l'occidentale in genere diciamo i tempi, posso esprimermi in questo modo? i tempi moderni diremmo cioè i tempi che stiamo attraversando hanno bisogno di una metodologia meditativa diversa rispetto a quella orientale perché qualche uno di voi me lo saprebbe dire così accennandolo che ne so, Lorenzo piuttosto che Lorena o qualche uno che ha un'idea del perché dobbiamo aggiornare la procedura meditativa beh innanzitutto perché dobbiamo saper creare e costruire nuove forme pensiero o aggiornare quelle vecchie in secondo luogo c'è un grande bisogno di riuscire a collegarci con la mente astratta e per collegarsi con la mente astratta bisogna seguire una procedura che è più affine agli occidentali ed è quella di ampliare la mente ampliare la visione mentre nella meditazione orientale si cerca di fare o il vuoto di essere diciamo di annullare la mente ecco la differenza qualitativa della meditazione per l'occidentale è quella di focalizzare la mente dalla mente concreta alla mente astratta e soprattutto con la meditazione di settimo raggio introdotta dal maestro R e da Lucille Sederklans che è stata con lei che ha portato questi insegnamenti del maestro R in scritto ecco abbiamo raggiunto anche un livello pratico di meditazione anche qui come vedete nel corso di meditazione creativa ci stanno vedete adesso sono entrato e vedete le cartelle che ci sono appunto quella per collegarsi la cartella dei sussidi didattici le registrazioni dei webinar che sono in tutti i corsi e anche la cartella dei documenti condivisi ok questo era quello di prima e qui ritorniamo indietro bene questi sono i tre corsi che faremo live poi ci sono altri corsi che invece sono autogestiti come il corso operatore architipo il corso cuore che è un corso basico iniziale in cui si vanno a vedere come dire le varie simmetrie che ci sono fra cielo e terra lo dico in questo modo molto semplice ma il corso cuore attraverso il libro che è stato il primo libro che ho scritto anni fa è la base di tutti gli altri corsi poiché si vanno ad affrontare i vari temi del percorso di crescita spirituale che poi sono stati approfonditi negli altri libri che ho scritto quindi il corso cuore è come il fil rouge che partendo dal cuore ci fa arrivare a sintonizzare la mente al cuore che è la condizione che serve oggi per poter diventare co-creatori cioè responsabili dell'evoluzione umana su questo pianeta ognuno per la sua individualità e la parte che ha ecco poi c'è il corso la natura dell'anima anche questo è un corso che ci si può autogestire Maslinda ad esempio sei già iscritta non so se già lo hai cominciato a frequentare ma sono tutte le 40 webinar che sono stati fatti negli anni passati quindi tutte le registrazioni con i relativi compiti ve lo posso far vedere anche qua entrando nel dettaglio le cartelle poi vedete queste che sto facendo scorrere sono tutte le lezioni tutti i webinar arrivano fino alla 35 ma alcuni sono A e B quindi sono in più volte quindi in totale sono una quarantina è un corso diciamo che lo si può strutturare secondo il proprio tempo perché è autogestito ho deciso di farlo in questo modo perché perché ve lo dico sinceramente perché c'è un patrimonio di registrazioni che sono appunto con le persone che hanno partecipato che era un peccato andasse perso poiché ascoltando le registrazioni e poi applicandosi perché ci sono i vari compiti durante il percorso si ha proprio l'idea della partecipazione la partecipazione di quel gruppo che lo ha fatto anni fa ma ci si sente all'interno di quel gruppo ascoltando le registrazioni poi naturalmente se ci sono domande le potete sempre fare rivolgermi perché ci sta sia diciamo attraverso l'email e quindi se ci sono degli approfondimenti o dei chiarimenti da fare potete sempre chiedermeli perché sono sempre a disposizione come focalizzatore del corso anche se a distanza per poter rispondere questa è una cosa che chi ha frequentato i miei corsi sa sono sempre disponibile in genere mi mandate un messaggio ho bisogno di parlarti e ve lo ve lo fisso al più presto anche in giornata dipende di più dai vostri impegni che non dai miei perché essendo in pensione in genere le mie giornate sono a disposizione proprio perché per me questo è il mio servizio e quindi la mia vita è fatta di questo e c'è sempre anche il corso della magia cerimoniale vedete è fruibile attraverso le registrazioni e anche il corso sul ritorno del Cristo dopo averne fatto tre edizioni live ho deciso che c'era sufficiente materiale per poterlo gestire anche in autonomia e quindi facendo un percorso ascoltando le registrazioni e potendo consultare anche i documenti che sono postati e poi c'è il corso archetiling base anche questo si può usufruire in questo modo va bene direi che è tutto se avete qualche domanda in particolare altrimenti vi ho detto che la presentazione sarebbe stata veloce perché insomma le cose da dire sono queste è inutile è una cosa velocissima di Lorenzo io ho dato un'occhiata mi sono intanto mi sono iscritto al corso conoscenza iniziatica ma ho visto che tra i miei corsi nel mio spazio mi sono mi sono già ritrovato il corso della natura dell'anima e il corso magia della guarigione combinato vuol dire che avendo fatto io la natura dell'anima già questo me lo sono già ritrovato capito con tutti i suoi webinar registrati certo chi ha fatto già i corsi in passato ha sempre l'accesso anche a questi corsi che ha già fatto e quindi può partecipare se ne ha voglia può perché si ritrova già iscritto quel corso mi viene un colpo se lo riascolto mi viene un colpo se lo riascolto mi struggerò di emozioni ah tu dici ascoltare no ma penso che lo ascolterò perché allora la mia filosofia è questa le cose belle si possono riguardare no le cose belle della vita sono quelle che ci sostengono e secondo me tutti questi corsi che abbiamo fatto sono cose belle nella vita sono d'accordo e quindi possiamo anche rivederle e tenete anche presente che se una persona vuole ripassare a parte quello combinato è un ripasso ma che secondo me è fondamentale perché abbiamo appena incominciato a utilizzare questi strumenti della focalizzazione del triangolo causale della stella di gestazione e bisogna prendere confidenza facendo pratica ma poi le persone diciamo anziane perché lo hanno già fatto e lo stanno ripetendo possono essere di aiuto anche alle nuove persone che lo stanno facendo per la prima volta lo sapete che noi non siamo a un'università come ce ne sono tante se vogliamo dire così questa è l'università della vita e c'è bisogno sempre di supportare le persone che stanno affrontando un percorso di conoscenza del sottile per il proprio miglioramento la propria crescita coscienziale ma anche perché a differenza degli altri studi che si fanno noi qua stiamo condividendo le nostre esperienze quindi non solo oltre alle informazioni è l'esperienza individuale che scambiamo l'un l'altro da cuore a cuore poi la mente ha il suo compito ma noi siamo gruppi di cuori uniti perché è l'unione dei cuori che salverà non voglio dire il mondo ma perlomeno questa evoluzione umana che sta avvenendo lo sapete attraverso le varie razze ma le cosiddette varie razze madri e noi nella quinta razza madre quindi questi corsi sono una condivisione in fratellanza questo è lo spirito dopodiché le informazioni che vengono raccolte e scambiate ci servono per cementare la nostra unione questo è il vero scopo non è rimpinzare il cervello di nozioni ma è condividere un pezzo di strada crescendo insieme questo ci tengo a dirlo perché è la motivazione principale c'è qualche sì Federica dica no volevo ho letto da qualche parte che c'era un altro corso dei valori dove si doveva scrivere un settimanalmente un il corso valori base anche quello si può anche quello c'è e chi lo vuol fare in autonomia come è sempre stato fatto in realtà in autonomia perché quello che abbiamo fatto insieme in gruppo era il corso valori avanzato dove si è imparato a fare a produrre a creare un proprio capo d'opera eccetera ma adesso qui non so perché stasera non c'è ad esempio Ida ma ci sono o anche Marcello quando mi ha conosciuto due anni fa il primo corso che ha fatto era il valori base perché lo davo proprio a una persona per incominciare a entrare in risonanza della vita attraverso i valori e quindi era un corso propedeutico che c'è ancora idea io no Rola avevi visto anche tu no un corso dove ogni settimana infatti io appunto anche io volevo dire questo cioè fermo restando che il gruppo il gruppo il cuore la condivisione sono ovviamente sono insostituibili ma io avevo visto sì nei vari corsi proposti anche quello no dei valori cioè con la proposta di di fare ogni settimana un capodopera su su un valore e quindi poi di condividerlo con altri che con gli altri iscritti diciamo a questo corso interessati a lavorare sui valori e a creare i vari capodopera sì e quello mi sembrava interessante interessante per rimanere per rimanere sul pezzo cioè sui valori settimanalmente creare o ricreare perché poi li abbiamo fatti ma o ricreare i capodopera perché lo ritengo molto utile molto molto utile sai cosa pensavo anche Edoardo che sarebbe non so se ci sono già stato fatto però sarebbe interessante rivedere tutti i capodopera e i capi d'opera che abbiamo fatto noi perché cioè nel kit che ci avevi dato ci sono tutti i capodopera perfetto perché servono come esempio però ci sono anche i vostri io ve li ho dati anche c'è stato in cui qualcuno ha anche commentato un lavorone perché li avevo raccolti e ve li avevo mandati e se li avete conservati li avete io ce li ho ovviamente tutta la raccolta dei vostri capi d'opera e comunque nella ripetizione nel corso di guarigione combinato ci sarà anche proprio il fare il capo d'opera quindi è una delle basi per poter costruire è che il vostro ciascuno il proprio documento creativo perché guardate che costruire il capo d'opera nel cimentarsi è costruire una forma pensiero se lo se lo vedete bene com'è fatto il capo d'opera con i vari cinque livelli che raggiungi è avere proprio in mano la costruzione di una forma pensiero quindi se qualcuno lo ha compreso in effetti è proprio così e dunque però ciò non toglie che ci si potrebbe questo si può sempre fare per coloro che sono interessati non c'è neanche bisogno di fare un webinar lo si può mettere nel senso che si può introdurre i lavori fatti e all'interno appunto ad esempio del webinar della guarigione combinata si potrebbe proprio fare come lavoro e soprattutto voi che l'avete già fatto e che potete essere da guida anche per le persone che si cimentano per la prima volta in questo e quindi condividere ci sono sette webinar che vengono fatti a meno che non abbiate un'altra proposta che ad esempio di farlo anche in un tempo più lungo e ci si può le persone che lo vogliono fare ci si può riunire magari in un altro giorno decidere un giorno in cui si vanno a condividere i capi d'opera io sono aperto sono in pensione vivo di questo e quindi mi sembrava mi sembrava interessante essere impegnati settimanalmente proprio con quel ritmo con questo ritmo su un valore a settimana ti dirò di più Romana ma perché non lo guidi tu eh no perché voglio dire siete insomma alcune di voi che sono da anni che hanno contribuito a formare anche questa scuola di sintesi evolutiva te lo dissi già Romana ma come anche Federica insomma quelle più anziane nel senso di frequentazione dei corsi sarebbe bello se lo potessi guidare tu dico te Romana perché Federica poi ci ha ci avrà fra un po' no insomma un'operazione sai che ti sosterremo quando sarà il momento ce lo comunicherai va bene questa era una comunicazione di servizio ok che poi riguarda il gruppo però pensaci Romana pensaci no no nel senso che se a qualcuno interessa possiamo formare un gruppettino sì anche di tre persone quattro cinque quelle che quelle che sono noi come dire siamo per l'abbondanza e quindi siamo aperti tanti pochi quelli giusti a me sta interessando la meditazione creativa eh anche quello sarà un percorso interessante da marzo avete visto le date perché poi è ovvio che sarà pratica cioè giusto per curiosità con i genziani come ci definisce Edoardo eh che abbiamo pochi minuti ancora poi sapete che come siete orientati in senso più certo a me interessa interessa quello della meditazione creativa però voglio capire anche poi bene come devo rileggere gli argomenti eccetera vatti a lo vedere perché ve li ho fatto vedere prima vai su scuola e li vedi però appunto li ho visti mi sembrava interessante seguono il libro diciamo che ho scritto i vari capitoli ecco una cosa importante anche sulla conoscenza iniziatica per renderlo più interattivo io vi darò dal 23 che iniziamo e chi parteciperà vi dirò leggete il primo capitolo poi quando saremo nel webinar ci saranno quindi prendetevi appunti su quello che avete compreso o quello che non avete compreso e scambieremo questo nel webinar cioè ognuno di voi dirà quello che ha compreso e che e se c'è se ha delle domande per cui sarà più interattivo e non io che vi vado a spiegare le cose perché poi leggendole si comprendono da soli non è fisica quantistica ok concetti diciamo difficili naturalmente rispondendo anche a vostre domande ci sarà la possibilità di approfondire e ampliare ok tutto chiaro tutto chiaro tutto chiaro tutto chiaro a me piacerebbe non ho capito che c'è conoscenza iniziale e adesso sono tre persone ma stiamo io ci sono io ci sono ecco una cosa nel momento in cui decidete quali sono i corsi fatelo brevemente perché abbiamo una settimana arrivare al 23 ok io devo preparare le liste insomma c'è un po' di organizzazione diciamo da fare io anche per preparare gli inviti tutte queste cose quindi prima sì anch'io ci sarò Lorenzo solo non ci sarò sempre questo lo dico già ma c'è no ma era giusto per dare valore ancora maggiore a quello che diceva Edoardo cioè che i corsi di Edoardo sono un momento di condivisione proprio e di conoscenza reciproca di esperienza reciproca di relazione di e poi quindi è chiaro che ovviamente sono molto curioso di conoscere persone nuove però Lorenzo abbiamo un minuto al termine quindi a me infatti farebbe piacere di tornare in un gruppo con voi però vedo in base a quello che sarà Federica ti posso dire guarda che ci sei sempre ci sei già no ma sì ho compreso come dicevi va bene cari allora questa è la registrazione domani la metterò anche già fin da stasera su Fraternity Channel su YouTube quindi chi la pensa se la può andare a vedere eccetera eccetera vi aspetto con gioia e grazie ancora ciao a tutti ciao a tutti